A Ruggeri di Villa Momano si affrontano due compagini reduci da un girone d'andata a due facce che hanno vissuto però le proprie fasi positive e negative in momenti diametralmente opposti. Sette sconfitte nelle prime sette giornate per i locali e altrettante vittorie invece per quanto riguarda gli ospiti. In avvio di gara sicuramente più intraprendenti padroni di casa ma col passare dei minuti i ragazzi di Carlucci prendono campo e fiorano il vantaggio al diciassettesimo. Ruzzi controlla in area di rigore e conclude a colpo sicuro ma trova a negargli la gioia del gol un superlativo intervento di Gava. Un minuto più tardi protagonista l'altro estremo difensore Sinato che vola a salvare la propria porta su Gardini. Al venticinquesimo buona combinazione tra Torre e Polisena che scarica il limite per il destro di Basilico che manda la sfera sopra la traversa. Poche emozioni e tanti sbadigli nei minuti successivi con i due portieri rimasti a riposo fino alla fine del primo tempo. Con l'ausilio delle immagini di Flavio Forcellese ci spostiamo alla ripresa. Primo sussulto al settimo quando si fa vedere Conti che si gira e prova a sorprendere Gava con la palla che però finisce a lato. Gli ospiti in questa fase sembrano più in palla. Piccioni presumibilmente non è soddisfatto e dal quarto d'ora effettua quattro cambi in una sola volta. Al ventiquattresimo pericolosa la Virtus Cupello quando Conti parte sul filo del fuorigioco e penetra in area di rigore. Il suo destro smorzato si trasforma in un assist per Dorazio ma Gava chiude lo specchio della porta. Al trentunesimo si vede il Ponte Vovano con Polisena che non inquadra la porta da fuori area. Passa un minuto ed è Valentino Cernaz a provarci. Attento Sinato. Gli ospiti però tornano a far paura al trentacinquesimo con un calcio di punizione insidioso di Margagliotti con Gava che respinge in qualche modo e Napolitano che sugli sviluppi dell'azione non riesce a buttare la palla nel sacco. Sembra essere la squadra di Carlucci quella più in grado di ritrovare il colpo da tre punti ed invece arriva il gol del Ponte Vovano. Al quarantunesimo Torre se ne va sulla destra cross teso in area di rigore raccolto da Valentino Cernaz che batte verso la porta. Palla deviata da un difensore ma nell'area piccola arriva di testa il tapin vincente di Gardini con Sinato che tocca la sfera senza riuscire a salvare la propria porta. La Virtus Cupello è tramortita e non trova le forze per reagire. Dopo sei minuti di recupero il Ponte Vovano può così festeggiare un successo che mancava da tre turni. Mister Carlucci a quattro minuti dalla fine è arrivata una rete che ha rappresentato una beffa per quanto visto in campo per quanto fatto da Virtus Cupello nel corso della gara. Sì noi ci abbiamo provato non era facile su questo terreno ma il campo era uguale per entrambi. Forse nel nostro momento migliore negli ultimi quarto d'ora della fine della partita ci stavamo credendo andando su verso la porta loro però purtroppo quattro minuti dalla fine vado questo gol. Si sapeva questa partita chiunque avesse fatto il primo gol molto probabilmente portava a casa l'intera posta della paglia della partita. Noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare siamo stati compatti ci siamo adeguati subito al campo purtroppo come è sempre una distrazione in una palla in uscita sono ripartiti e hanno fatto il gol del vantaggio. Di Giacinto il Pontevavano torna al successo dopo tre turni. Tre punti molto importanti al termine di una gara particolarmente complicata. Beh sì la gara è stata combattuta complice anche di un campo al limite della preintegrabilità. Noi abbiamo secondo me il merito negli ultimi dieci minuti di credereci un po' di più è arrivato questo benedetto gol anche se sostanzialmente il risultato più giusto era il pareggio devo essere sincero. Poi sul campo ecco devo fare un piccolo appello al nostro comune perché noi siamo la seconda squadra dopo il termocalcio per importanza del comune di Teramo e girando tutto l'Abruzzo non è un bel biglietto da visita questo campo per il comune di Teramo. Spero che che il comune prenda almeno prenda in considerazione qualcosa perché veramente ci facciamo veramente una brutta figura quando le squadre vengono a giocare qua.